Ciao Ivan, questo video, micro video, è riservato a te, ti farò vedere ovviamente come trasformare un word in pdf, ti farò una prova con questo word in cui ci sono abbastanza cose, ovvero una tabella con l'elenco dei libri che devo acquistare, dunque per trasformare questo word in un pdf devi recarti su questo sito qui che ti lascio nella descrizione, quindi sotto questo video e devi cliccare su select word file, ti si aprirà questa schermata dove devi selezionare il file da trasformare, quindi siccome a me si trova nel desktop mi recco nella cartella desktop e lo seleziono e clicco su apri, adesso lo starà convertendo, quindi clicca su convert to pdf, ovviamente il tempo di conversione dipende dalla quantità di dati che si trova all'interno del word. Una volta che avrà finito clicca su download pdf e ti chiederà dove salvarlo, io lo salvo sul desktop, clicco su salva, come vedi il download è finito, quindi se ritorno al desktop avrò sia il documento word e sia il pdf completamente identico. Bene, spero di esserti stato utile e ci vediamo, ciao ciao! Ciao! Ciao!